Stato di attenzione anche su tutto il territorio vicentino sino alle due di domani pomeriggio e quanto ha dichiarato il centro funzionale decentrato dalla protezione civile della regione alla luce delle previsioni meteo delle prossime ore. In particolare, stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria e geologica per il bacino idrografico Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per la sola rete idraulica principale per il bacino Basso Brenta-Bacchiglione.